Il giorno fa in un video abbiamo parlato di come organizzazioni religiose o pseudotali come la società Torre di Guardia, in realtà sono degli ambienti ad alto controllo, dove praticamente la leadership di queste organizzazioni esercitano sulla vita dei propri aderenti un elevato controllo. Perché? Perché è interesse di queste organizzazioni avere il controllo sul maggior numero di persone, perché parliamoci chiaro, sono le persone che seguono queste organizzazioni, che sono la linfa vitale di queste organizzazioni, perché se non ci fossero più persone che seguono ciecamente la guida di queste realtà, di queste organizzazioni, è ovvio che tempo qualche settimana e chiuderebbero i battenti con tutto ciò che questo comporta. Quindi è interesse, è interesse dei leader di queste organizzazioni far sì che i propri aderenti abbiano la vita gestita in un certo modo, gestita da loro, anche se ricordiamo sempre sotto forma di consigli. Un esempio di questo, proprio all'atto pratico, così si comprende meglio ciò di cui stiamo parlando, è la scrittura del giorno di mercoledì 29 aprile, quindi ieri, per chi non lo sapesse, per chi fosse digiuno della questione, la scrittura del giorno è un calendario in uso interno dei testimoni di Geova, dove per ogni giorno c'è un versetto, un versetto tratto dalla traduzione del nuovo mondo, con relativo, ovviamente un versetto estrapolato dal contesto, con relativo commento che poi altro non sarebbe, altro non è che l'interpretazione che il corpo direttivo dà di di quel passo, di quel versetto. E la scrittura del giorno di ieri prendeva in esame la scrittura di primo Corinti, prima lettera ai Corinti, capitolo 10, il versetto 23, dove qui è scritto tutto è lecito ma non tutto è vantaggioso, questo è come riportato nella traduzione del nuovo mondo, tutto è lecito ma non tutto edifica. Questo è il commento, ossia questa è l'interpretazione, l'applicazione che il corpo direttivo di questa organizzazione fa di questo passo, di questo versetto. Alcuni pensano che dal momento che certe decisioni come quelle riguardanti l'istruzione, e dai che si ribatte sull'istruzione, il lavoro o la carriera sono personali che ognuno abbia la libertà di fare ciò che la sua coscienza gli permette. Chissà perché fra le tante decisioni che una persona può prendere nella vita, il corpo direttivo nel suo commento basato sulla torre di guardia su un articolo torre di guardia di aprile 2018, fra le tante decisioni prende in esame proprio l'istruzione, il lavoro e la carriera. Forse hanno in mente le parole che Paolo disse ai cristiani di Corinto a proposito del cibo, per quale motivo infatti la mia libertà dovrebbe essere giudicata dalla coscienza di un altro? Primo Corinti 10, 29. Anche, attenzione, qui arriva il bello. Anche se è vero, anche se è vero che abbiamo libertà di fare queste scelte personali, quindi sì, è vero che c'è libertà di scelta. Ma dobbiamo ricordare che la nostra libertà è relativa, ma relativa secondo il canone di chi? Della parola di Dio o del corpo direttivo dei testimoni di Geova? E che tutte le decisioni che prendiamo hanno delle conseguenze. Certo, è ovvio. Lo sappiamo benissimo questo. Infatti, poco prima di quelle parole, Paolo aveva scritto ciò che leggiamo nella scrittura di oggi. Capiamo quindi che ogni volta che usiamo la nostra libertà per prendere decisioni, dobbiamo tener conto di questioni molto più importanti delle nostre preferenze. Ecco la manipolazione del discorso. Con una sottile ed abile retorica tipica di questa organizzazione, il corpo direttivo dei testimoni di Geova vuole indurre un sottile e belato senso di colpa nella mente dei suoi aderenti. Perché? Perché questo versetto decontestualizzato ne fa un'applicazione pratica, parlando delle scelte personali, legittime, che ognuno di noi è giusto che prenda nella vita, dopo averle chiaramente ponderate. Ma, come ho detto all'inizio, chissà perché, delle tante decisioni che uno deve prendere nella vita, in questo commento si parla proprio di istruzione, lavoro, carriera. è evidente che c'è una sottile induzione del senso di colpa. Perché qui lo dice chiaramente, anche se è vero che questo rientra nella libertà di scelta, però ricordatevi che ogni decisione ha delle conseguenze, attenzione, e questo lo dice un'organizzazione multimilionaria, voglio ricordarlo, multimilionaria, con vari investimenti, infatti è una società commerciale che gestisce, a cui fa capo l'organizzazione dei testimoni di Geova. Però dice attenzione, attenzione all'istruzione, attenzione al lavoro, attenzione alla carriera, perché è vero, guardate la manipolazione, è vero che rientra nelle decisioni personali, però sappiate che questo può avere delle conseguenze. conseguenze. Quindi noi comprendiamo, dice qui, che nella nostra libertà di prendere decisioni dobbiamo tener conto di questioni molto più importanti delle nostre preferenze. E visto che non è specificato, io mi chiedo, e quali sarebbero queste questioni più importanti? Che dopo si sottrae tempo da dedicare anima e corpo all'organizzazione? È certo, è certo. Vedete come è interesse di questa organizzazione tenere, anche con abili ragionamenti, sofismi e retoriche varie e sottili induzioni di senso di colpa, tenere sotto scacco i propri associati? Sempre nel nome del lo dico per il tuo bene, lo dico perché ti voglio bene, lo dico nel tuo migliore interesse. Ma come sono amorevoli queste organizzazioni? Come sono veramente filantrope? Come ci tengono al benessere dei loro aderenti? Ci tengono talmente tanto da ancora una volta far vedere in accezione negativa in primis l'istruzione, non a caso viene citata al primo posto. L'istruzione. L'istruzione è un problema, fa aprire gli occhi su tante cose, quindi la cultura, il lavoro e la carriera. Questa organizzazione ama talmente tanto i suoi associati che gli induce un sottile e velato non diretto senso di colpa. Fate quello che vi pare se proprio dovete, ma sappiate però che ogni cosa ha le sue conseguenze. Mi ricorda un po', è sulla stessa scia, di un discorso che fece a un convegno appunto dei testimoni di Geova qualche anno fa, uno dei membri del corpo direttivo, Gerrit Losch, lo trovate anche su YouTube caricato il video. Era un discorso che parlava dell'istruzione universitaria. Dove c'era lo stesso modus operandi nella comunicazione. A un certo punto mi ha colpito molto un passaggio di quel discorso dove lo stesso Losch dice noi non siamo i padroni sulla fede vostra o sulla vostra vita, eh, per carità, però sappiate che qualunque decisione prenderete, e si parlava sempre nell'ambito dell'istruzione universitaria, poi ne dovrete rendere conto a Geova, cioè io non ti dico cosa fare o cosa non fare, o perlomeno non direttamente, ma sappi però che come ti muovi ne renderai conto e ne renderai conto a Geova, cioè all'organizzazione. Ma noi non siamo i padroni della vostra fede, lo facciamo e lo diciamo per il vostro bene. E sempre in un passaggio di quel discorso addirittura un'altra cosa che mi ha colpito è che a un certo punto Gerrit Losch dice paragona l'istruzione universitaria a un colpo di pistola alla testa, a una persona che aveva tentato il suicidio sparandosi in testa ma che non era morto perché la pallottola, il proiettile, non aveva colpito il cervello in maniera irreversibile. E lui disse, ve la sentite di prendervi lo stesso rischio? Paragonando l'istruzione universitaria e la scelta di quale istruzione universitaria intraprendere, ad un colpo di pistola in testa. Pensate un po' i livelli che ha raggiunto questa organizzazione, come altre ovviamente, perché non è l'unica, nel controllo, nella gestione della vita e delle scelte dei loro aderenti. Quando invece, come ho detto nel video precedente, siamo stati comprati a caro prezzo, siamo stati pagati col sangue di Gesù. Queste persone non hanno alcun diritto di controllare la vita di milioni di altre persone, non hanno alcun diritto. Come ho detto prima, le folle, le masse che seguono e che aderiscono a queste organizzazioni, a organizzazioni come questa, sono l'infa per queste organizzazioni, sono acqua che scorre. Ma se molti abbandonano queste organizzazioni, o per non dire proprio tutti, addirittura, ripeto, tempo entro qualche settimana al massimo e queste organizzazioni chiuderebbero tutte serranda. e questo lo sanno benissimo. Ecco perché c'è sempre questa corsa a richiamare all'ordine, nel nome del lo faccio per il tuo bene, i propri aderenti. E infatti non è un caso, appunto, che questa scrittura del giorno parli di decisioni personali, inerenti, istruzione, lavoro, carriera. Cose che possono fare da ostacolo al invece dedicarsi in tutto e per tutto, come manovalanza gratuita, gratuita all'organizzazione. a un'organizzazione molto ricca. Molto ricca. Ecco, volevo condividere con voi questo breve pensiero e per farvi vedere all'atto pratico, appunto, cosa significa proprio praticamente il video, cosa voleva dire il video dell'altro giorno. Che ognuno di noi e ognuno di voi possa riflettere e, se Dio vuole, ci vediamo al prossimo video. Grazie.